Da qualche anno ormai il premio del perdono è un riconoscimento che il comune nell'ambito delle manifestazioni della perdonanza attribuisce a personalità che si sono distinte nel campo dei temi legati alla manifestazione, cioè solidarietà, amicizia, pace. Quest'anno il premio, l'opera del maestro Paolo Mazzeschi, è andato al nonoreggimento alpini, impegnato nella missione di pace negli ultimi sei mesi in Kosovo e dove diversi militari in uno scontro sono rimasti feriti senza riportare però per fortuna gravi conseguenze. Ma al di là di questo è forte l'amicizia e il legame indissolubile tra la città e le sue penne nere, sempre in prima linea in tutte le emergenze che hanno colpito l'Aquila e il territorio. Ci sono e portano alto il nome della città dell'Aquila, non soltanto quello del corpo degli alpini, lo fanno con dedizione, lo fanno con professionalità, lo fanno anche con grande attenzione. Io ho potuto verificare con mano il lavoro che si sta facendo in Kosovo durante una missione istituzionale nella quale abbiamo consegnato i defibrillatori per le scuole delle regioni interessate dal controllo italiano e soprattutto ho visto la grande capacità di far dialogare due comunità, quella serba e quella albanese che avevano rinfocolato le tensioni dopo anni in cui sembrava che tutto fosse a posto. Il colonnello Mario Bozzi, comandante del reggimento, ha ritirato il premio a nome di tutti gli uomini e le donne presenti in sala, ringraziato il comune, per loro un grandissimo onore. La missione in Kosovo ha detto ha presentato delle problematiche a differenza degli ultimi 15 anni in cui l'assetto kosovaro sembrava tranquillo. Ci sono state insidie ricordate e grazie al coraggio dei miei soldati si sono superate. Per me è davvero un onore ricevere questo premio perché i miei soldati sono ormai tutti cittadini aquiliani.